ciao a tutti bentornati o benvenuti sul mio canale se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video oggi direte erika impazzita come si è vestita in pigiama ci fa il video in pigiama ebbene sì perché come avete letto dal titolo questo video un po particolare infatti un video outfit per la casa per la notte per stare in comodità ma prima di iniziare a parlarvi di questi capi di yes style che comunque io vi lascio giù nell'infobox e nel primo commento in evidenza così se vi piace qualcosa potete andare acquistarla anche voi io vi invito come sempre a iscrivervi al canale con la campanella attivata così da non perdere nessuno dei miei video e ovviamente seguirmi anche su instagram trovate giù nell'infobox il link diretto che vi porterà la mia pagina di instagram e sarò felicissima di avervi anche tra i miei follower il primo capo che io vi vado a mostrare è proprio questo set che indosso che si compone della maglietta degli shorts di questa fascia ma anche dello scrunch rigido che mi ero messa tra i capelli e ve lo faccio vedere eccolo qua come vedete è della stessa stoffa però all'interno ha un c'è un capello mio ha un filo rigido quindi si può modellare attorno ai vostri capelli come potete vedere il pigiama è una taglia unica esiste anche nel colore blu quindi al contrario l'opposto di questo quando ho visto taglia unica mi sono un attimino spaventata perché di sicuro non mi andrà non credo che mi sia comodo mentre non è così e lo potete vedere indossato che è molto morbido è molto leggero anche come tessuto mi viene a dire è scivolato non so come spiegarmi meglio e devo dire che è comodo lo trovo comodo lo shorts ovviamente è un po piccolino ma se no che shorts è lungo e quindi questo è un abbigliamento da casa per la primavera estate avendo le maniche corti di certo non è adatto a questo periodo ma un pochino più avanti anche i canzini che indosso sono un abbigliamento da casa e sono super carini e in questa confezione qui si presentano così e c'è il gattino stampato sapete quanti uomo i gatti in più questo è un gatto nero uguale ai miei quindi lo stra adoro anche per i calzini one size quindi taglia unica però devo dire che vanno bene sono super super morbidosi il colore l'ho scelto io l'ho scelto io in lilla in viola c'erano tantissimi altri colori perciò non bellissimi e poi sono super morbidi cioè sono credo siano calzini forse per andare a dormire o stare a casa ma scalzi perché sono veramente super super morbidi un altro capo che vi vado a mostrare sempre un pigiama questa volta maniche corte vi faccio anche vedere dove era racchiuso perché è super super carino poi io adoro queste buste perché le riciclo per metterci i vestitini una volta disinfettate all'interno c'è un pigiama che ho scelto io una taglia un pochinello sbagliata forse perché ho perso tanti chili dopo che mi sono messa a dieta con la dietologa ho riscelto una m avrei dovuto scegliere una l però mi sembrava che andasse bene non mi va strettissima potete vederla indossata però ecco forse una l mi sarebbe stata più comoda comunque sia la prospettiva di continuare a dimagrire c'è quindi mi va benissimo una m anzi mi invoglia a fare sempre meglio il pantaloncino è super carinissimo come vedete l'elastico è molto molto morbido qui c'è la taschina ea questa specie di spacco al fondo della gamba è uno short abbastanza corto e la maglietta eccola qui con su scritto sopra strawberry milk quindi il latte alle fragole mi piaceva tantissimo questa maglietta e è un homer quindi vestiti da casa o pigiami e mi dispiace perché ci sarei tranquillamente uscita con questa magliettina perché mi piace davvero tantissimo comunque non è molto molto stretta sarebbe stato un di più la l un po più morbida un po più comoda essendo un pigiama mi piace che calzi decisamente più largo un po come questa che racconto una taglia unica se vi devo consigliare l'acquisto di questo pigiama qui una taglia in più e secondo me viva a pennello ultimo capo da casa indossare attenzione a quello che vi dico da casa e qua dentro dentro questa confezione è un altro pigiama ho scelto io il colore anche di questo qui devo dire me lo aspettavo un pochino più brillante ma non mi importa va benissimo lo stesso di questo ho scelto bene ho scelto la l perché comunque mi dava l'idea seguendo le tabelle un capo che mi andasse meglio non so come mai ho preso m di quello lì sinceramente è andata così pazienza questo qui è un pigiama lungo come vedete maniche lunghe e pantaloni lunghi indossato questo capo è così mi piace decisamente più pesante anche proprio come stoffa ideale per questo periodo lo metterò subito do sempre una lavata prima ma indosserò subito questo questo pigiama tornassi indietro sceglierei un altro colore perché me lo mi sembrava diverso ma è solo una cosa mia comunque sia non mi dispiace sembra quasi flanella ma ovviamente non è flanella come potete vedere è semplicemente un cotone un pochino più spesso va benissimo per questo periodo secondo me oppure decisamente in pieno inverno è perfetto mi piace come resta indossato decisamente molto molto morbido sia come calzata che come tessuto rispetto a questi qui o all'altro che decisamente più una t-shirt infine l'ultimo articolo ecco articolo da casa perché non si indossa ma è veramente una cosa super carinissima che secondo me però mi andrà a rubare mio figlio perché è questo bellissimo panda vi prego guardate quanto è bello che può fare sia da cuscino ma questa è la chicca che secondo me se dovete fare un regalo è una persona un po freddolosa fatele questo perché dentro al plaid il plaid con i panda guardate che bello che è non è molto grande diciamo che è un plaid da divano oppure da colletta da lettino piccolo perché come vedete non è molto grande eccolo qui nel video non resta ma si mi copre le braccia ma è corto qui vedete ma è veramente carino da divano è perfetto uno si mette a guardare la televisione si mette il plaid sulle gambe ed è bellissimo e se uno non lo utilizza lo ripiega lo mette all'interno del testone del panda sorridente e si fa da cuscino del divano oppure del lettino preferite destinarlo ai bimbi quindi secondo me è super super carino un'idea bellissima e lo adoro già adesso non vorrei che finisse l'inverno solo per poter utilizzare questo plaid più a lungo ma essendo un pochino freddolosa di sicuro io lo utilizzerò più avanti quindi e poi tanto arriverà l'autunno l'inverno e siamo punti a capo e resterà sempre con me o con mio figlio se deciderà di rubarne e poi ragazzi è morbidissima ma veramente morbida cioè super super morbidosa e infine the last but not the least c'è un prodotto di skin care quanto mi piace la skin care ormai lo sapete quella coreana sapete anche voi e non c'è bisogno che ve lo dica io basta fare una ricertina su google è veramente ottima il light clean pink balm cleaner di day mellow prima di parlarvi del prodotto voglio specificarvi i prodotti day mellow quindi il marchio sono cruelty free perciò se state cercando dei prodotti buoni perché sono formulati comunque anche abbastanza bene per una buona skin care ma che siano cruelty free andate a cercare la linea che ha day mellow è scritto in questo modo qui day mellow vi ricordo che il mio codice sconto il mondo di e che inserirete a fine check out quindi all'interno del carrello quando andate a fare il check out vi da degli sconti perciò potete inserire tutti gli articoli presenti sul sito di yesstyle non soltanto quelli che vi mostro io che il sito mi ha inviato quindi potete usufruirlo tutte le volte che volete non a scadenza e vi offre uno sconto su tutto il carrello qualunque articolo voi andiate ad inserire dentro perciò direi che è veramente super top come cosa non trovate a prenderlo si presenta la spatolina che serve per prelevare il prodotto e andarlo ad applicare sul viso all'interno è fatto così la consistenza è simile non so se l'avete mai utilizzato all'olio di cocco la consistenza quando è inverno che quindi si va ad indurire vedete che si scioglie molto molto facilmente toccandolo con le dita e aiuta a rimuovere i residui di trucco e le impurità della pelle contiene olio di rosa canina e acqua di fiori di rosa da mascena è super veramente ha un buon buon odore che sprigiona soprattutto quando lo si va a lavorare con le mani all'estratto di papaya che va anche ad esfoliare delicatamente il viso andando a togliere tutte le cellule morte e lasciando la pelle super liscia e anche morbida questa spatolina è molto più comoda da utilizzare rispetto al dito come ho fatto io io l'ho fatto adesso col dito soltanto per farvi vedere la sua consistenza e come si va a lavorare con le mani quindi col calore delle dita grazie all'olio di avocado e all'olio di semi di camelia nutre e mantiene la pelle idratata come si utilizza questo detergente qui? si prende una piccola quantità di prodotto e la si va a massaggiare sul viso emulsionandola con dell'acqua tiepida dopodiché si va a risciacquare sempre con l'acqua tiepida e si va a tamponare il vostro viso lo proverò e se volete posso fare un video dove lo provo assieme a voi ovviamente ditemelo nei commenti fatemi sapere se anche voi avete questo detergente qui e come vi state trovando io per adesso vi saluto voi non vi dimenticate di iscrivervi al canale con la campanella attivata così da non perdere nessuno dei miei video e lasciatemi un pollice in su come supporto al canale vi aspetto numerosissime nei commenti ditemi qual è il capo che più avete preferito e quello che vorreste comprare voi vi ricordo che vi lascio nell'infobox tutti i riferimenti di ogni prodotto che vi ho mostrato e anche il mio piccolo codice sconto noi ci vediamo alla prossima ciao ciao